eccoci qua nella cucina di gilda ciao a tutti ciao amori che facciamo oggi allora oggi faccio un bel broccolo romanesco gratinato come faccio io vabbè faccio in tanti modi oggi voglio fa così va bene va bene io ho lessato un bel broccolo pesava anche le tre allora ho fatto bollire l'acqua quando bolliva l'acqua l'ho messo giù e dopo il bollore l'ho fatto cuocere una decina dei minuti perché non deve essere troppo morbido perché sennò poi va ricotto perciò 10 minuti l'ho fatto l'ho fatto bollina altro po va bene va bene poi adesso io questo qui lo metto dentro questa pirofila vedete ecco qua ecco vedete come l'ho messo qui ecco fatto allora adesso ci metto una puntina di sale eccola qua un po di qua un po della che quando l'hai cotto non è messo il sale giusto nell'acqua no 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 nell'acqua non mettete sale perché guardate almeno vi riesce fuori bello verde ok allora io metto poco sale perché adesso ce vado a mettere faccio delle piccole polpettine vedete ecco qua e ce le metto in mezzo allora queste sono due salsiccette di prosciutto vedete mamma mia raga viene in broccolo gustosissimo buono eccole mando vedere un po in mezzo ecco vedete come faccio così questo è bello come piatto è bello buono secondo beh un bel piatto completo certo però diciamo può essere in contorno questo per me è un piatto completo questo è proprio secondo e contorno insieme un pezzo di pane ti saluto e vai una bella fetta di pane casareccio ah e che tu dica fa ecco eccolo qua guardate un po guardate quant'è carino e buono perché è carino ma di volte è buono allora adesso io ci metto un po di pepe una bella spolverata di pepe ragazzi eh qua ci vuole e certo ecco qua adesso ci mettiamo un po' d'olio d'oliva olio d'oliva ecco qua non tanto perché lo caccia la salsiccia va bene allora guardate questo è proprio semplice semplice allora una bella grattugiata di parmigiano che ci vuole eh imbrontolate perché ci vuole o famo o non famo ecco poi questo fa la crosticina mamma mia una bontà già che ci stai metto tutto considerate cinque cucchiaini di parmigiano ok questi sono piccolini capito e va benissimo poi allora poi qui pezzo forte ho grattugiato vabbè ho spizzicato con le mani la mollica del pane vedete ho fatti tutti ecco tutte mollichelle dei pane vedete e poi l'ho messa dentro la padella con un cucchiaino d'olio e l'ho fatta e abbrustola in pochetto adesso queste vanno qua eh mamma mia ragazzi lo devo di che vi maniate qua ce lo devi di qui sulla guardaggia direggia su immaginiamo queste erano quattro fettine dei pane casareccio però io ho tolto solo la mollica va bene ecco qua adesso io questo lo vado a metter al forno a 180 già caldo e lo faccio stare una mezz'oretta tanto poi vi regolate voi come mi regolo io va bene una mezz'oretta va bene però può essere c'era un po' di più c'era un po' di meno vedete voi va bene vai gildarella eccolo qua eh guardate che bello mamma mia ragazzi che profumo lo devo lì che vai gildarella facci vedere qua ti è mamma mia guardate che crosticina vedete eccola qua guardate che spettacolo guardate un po' che meraviglia raga poi sto pane abbrustolito guardate le polpettine uno spettacolo che ve lo dica fa com'è gildare è buono che stai a mangiare zitta zitta ci stai a far venire fame senti come scrocchia la mollica del pane è quella bella tostata buono raga fatelo poi basta guardare gildarella come se lo sta a mangiare perciò proprio buono da qui si capisce che non è una bontà di più vero gildare che vodi che fa allora amori miei guardate ragazzi che roba vi faccio venire l'acquolina in bocca vai vai è proprio buono allora questo può essere pure un secondo va bene allora adesso tanti baci belli sempre dal cuore e sempre dalla cucina di gilda le manno tanti baci belli vi amo tutti e piatto ricco mece fico